Siamo con Federico Castorina, Presidente della Fondazione Cultura Democratica. Cultura democratica in campo già da alcuni anni, con uno scopo importante. Creare, formare nuova classe dirigente a disposizione dell'Italia, soprattutto classe dirigente giovane. Esattamente. Le nostre finalità sono soprattutto quelle di partecipare, formare e innovare. Quindi abbiamo l'obiettivo di coinvolgere, coinvolgere tutti quanti i giovani che vogliono innovare davvero, premiandone il merito. Formare, quindi dalle loro strumenti sia giuridici ma anche organizzativi di comunicazione, per poter effettivamente svolgere un ruolo di classe dirigente e poi innovare. Cioè, da questi giovani che hanno grandi competenze e energia, tirar fuori delle vere proposte nuove e innovative per il Paese. Domani, Cultura Democratica, la Camera presenta un progetto molto importante. È un progetto innovativo, Generazione Italia. Diamo anche l'indirizzo dove i giovani possono collegarsi e avanzare le loro proposte e le loro segnalazioni. Domani a che cosa serve, diciamo, Generazione Italia, questo vostro progetto? È una call generazionale, quindi un po' una chiamata alle armi di tutti quanti i giovani che vogliono dare un contributo al Paese, in cui selezioneremo tramite una call a cui è possibile partecipare sul sito www.culturademocratica.org mille giovani con vocazione tecnico-giuridica e mille con vocazione politico-amministrativa. Quindi ragazzi, ognuno in base al proprio percorso, alle proprie aspirazioni, potranno mettersi in gioco, lavorare a proposte concrete per il Paese, ma soprattutto creare un tessuto di idee e valori che possa fare delle proposte serie, innovative e moderne da lanciare nello scenario e da mettere a disposizione del percorso di riforma del Paese come contributo specifico della nostra generazione. Perché cultura democratica non chiama soltanto, diciamo, a un confronto. Il confronto è sempre finalizzato, visto che siete dottorandi, ricercatori, liberi professionisti, cioè già giovani inseriti in un processo produttivo. Il vostro confronto si è già trasformato in proposte di legge su determinati argomenti, cioè sono forse parlamentari, deputati, senatori che hanno fatto proprio le vostre proposte. Esattamente. In questa legislatura sono già circa 10 disegni di legge elaborati interamente da giovani, attualmente depositi in Parlamento e anche in discussione. Per citarne giusto alcuni sulle start-up culturali, a prima firma Anna Scania, la Camera, oppure sulla Sharing Economy, a prima firma del senatore Del Barba. E in più abbiamo anche lavorato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fornendo dei paper e degli studi anche comparatistici per fare dei decreti attuativi. Quindi già abbiamo sperimentato questo metodo di mettere a sinergia giovani istituzioni per degli obiettivi concreti. Il metodo ha funzionato perché appunto io dico sempre che la nostra generazione è il più grande giacimento di idee, energie e competenze inutilizzate del nostro Paese. Quindi ragazzi andate su culturademocratica.org, segnalatevi, date i vostri dati, partecipate e soprattutto speriamo che da questa iniziativa, visto che si parla sempre di elezioni imminenti, si possa arrivare all'individuazione di dirigenti politici giovani. Esatto, profili interessanti, ragazzi che vengono dai territori, che hanno investito su loro stessi e che possono dare qualcosa al Paese, ma attraverso un metodo di selezione che sia realmente basato sul merito. Quello che io penso è che alla nostra generazione per partecipare serve lo strumento appropriato che non può essere uno strumento che prescinda dal merito.